Il prossimo brano in programma è tratto dall'opera Sansone e Dalila di Camille Saint-Jean. È la danza baccanale, una danza orientale ambientata in Palestina che mette in scena la danza che Dalila offre a Sansone per corteggiarlo. La danza si inserisce nell'opera Sansone e Dalila. La storia è una vicenda di seduzione ed inganno. Gli ingredienti del racconto biblico sembrano scelti apposta per parlare ai giorni nostri. Sansone, giudice di Israele, focoso come il sole e bello come un dio, è dotato di una grande forza proveniente dai suoi capelli, che non ha mai tagliato. Dalila, come lascia intendere la radice araba del nome, sa comportarsi come una guida amorosa e sarà lei a seguirlo fino alla morte dopo il pentimento per averlo tradito con i filistei. Tra questi due giovani c'è il fascino esotico medio-orientale e il rischio che accende il desiderio dell'avventura. Sono degli amanti di due popoli diversi e per giunta in guerra. Signore e signori, la danza baccanale! 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 Signore e scrittura! Signore e signori, la danza baccanale! Signore e signore. Signore, la ch instance si Jacki. Signore e signori, Aminquist and I, this is the time at our small Hammer Inf environmentally Hey zat clicc! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.